Sono molto contento che i gol stiano arrivando, li stavo cercando molto. Il mestre mi chiedeva di lavorare un po' più vicino alla porta, di inserirmi e ci sto credendo su ogni pallone. No, quello di Massimo, ci abbiamo parlato, era un assist. Dobbiamo lavorare su noi stessi, dobbiamo essere contenti di questa vittoria, ma dobbiamo rimanere con testa bassa e piedi impiantati per terra perché il campionato è lunghissimo ed è molto difficile. Abbiamo visto che la classifica è molto corta, basta che perdi o pareggi una partita e ti puoi ritrovare ottavo. Quindi dobbiamo continuare così, essere squadra come penso che abbiamo dimostrato oggi e continuare così. Noi dobbiamo cercare di vincerle tutte, stiamo dimostrando di essere una grande squadra come dicevo prima. L'importante è portare sempre i tre punti a casa, adesso ci sono altre partite e pensiamo alle prossime. Sono molto contento di me stesso, devo continuare così, devo cercare di migliorarmi ogni giorno in allenamento, fare quello che mi chiede il mister, però la cosa più importante ad oggi è la squadra, perché se si pensa alla squadra tutti insieme si può arrivare lontano, poi il singolo arriva da solo.